L'Unione Energia Alto Adige e SEV conta 305 soci per un totale di 119 centrali idroelettriche in provincia di Bolzano. Tutto o quasi il panorama energetico altoatesino, eccezione fatta per i colossi da sella ad azienda energetica. Probabilmente il soggetto che con maggiore interesse ha guardato al nuovo piano di tutela delle risorse idriche ha approvato martedì dalla giunta provinciale e che regola in sostanza l'utilizzo dei corsi d'acqua per produrre appunto energia. Il documento presentato dall'assessore Richard Heiner non piace. In alcune parti una delle più importanti riguarda la determinazione del quantitativo minimo di acqua residua. Il tavolo di esperti di SEV aveva proposto 40 litri al secondo, la provincia ha optato per 10 litri in più. Noi siamo sempre riusciti ad avere delle discussioni anche costruttive ed è chiaro che da un lato c'è chi tutela l'ambiente però noi non è che difendiamo le concessioni sull'idroelettrico, cioè noi tuteliamo il clima. Il secondo punto riguarda la decisione di escludere dallo sfruttamento idroelettrico le acque i cui tratti di flusso non edificati sono inferiori al 50% del corso complessivo. Il gruppo di esperti si era espresso a maggioranza sulla cancellazione di tale valore limite. Si parla sempre di 400 richieste di concessioni che devono essere ancora elaborate in provincia e queste 400 richieste ci sarà grossa difficoltà che vengono esalite in questo senso.